Non ci fassi Ma non è alta è sempre quella è sempre quella beh insomma no sono già entrato due o tre volte qua e non è proprio è a metà che però ci devi passare lì sì sì ma l'avevamo già detto di prepararlo però eh fa niente troviamo bravo Ale buttalo giù là che così almeno ci passiamo sopra lì magari adesso arriva lo spostasassi un passaggio? sì buttalo buttalo guarda guarda che belli ricorda l'andiglio di venire qua a portarseli via ma cosa deve essere lì? eh appunto l'andiglio di portarselo via porta questo ah vai su di lì? non da quale secondo me va smorza smorza e adesso arriviamo di là e scendiamo perché così quando quando si allaga del tutto qua riusciamo a passare se si può no si può si può si può ma dobbiamo andare su lì non passare qua per forza perché di lì non si può è meglio andare sulle piante qua allora e allarghi qua si mentre giù lì eh capisci che è meglio di lì si ma qui c'è un bel lavoro da fare deve scendere tutto fino là andiamo sopra qua facendo la rampettina poi scendiamo si ma dove? in fondo là eh deve scendere da in mezzo no di qua Marco meglio di lì sì anche qua salti su perché se se tiri giù quei quattro legni qua aspetta adesso ti guardo eh no dai lì si può scendere là tira giù questi Marco mettili lì sotto accompagnati che almeno ci fanno da invito qua che c'è qua un sassetto no metti lì sotto metti sotto in mezzo che almeno ci restano da invito qua cazzo no lì lì li devi buttare ma lì non ci stanno ma no ma scusami ti fanno da invito cazzo se li metti sotto lì ti aiutano ho anche questi no ma questo è attaccato velo a tutti prima che che fa solsi cinza cinza la lacrime cam cazz cam cam , cam 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 Grazie a tutti.